Se mi vede sono morto Io vado dentro Ah si Vengo pure io Giù mi segue Ehm no Ah Vabbè meno male che per questo video dobbiamo stare più dentro casa Io però devo continuare Dov'è la tua armatura Giù? Ah vero Ce l'ho qua dentro Ok Io direi di prendermi direttamente Ragazzi E infatti Guardate qui cosa abbiamo Abbiamo scavato un bel po' E abbiamo trovato qua Non l'abbiamo scavato ovviamente dentro casa Ma nella grotta là sotto E in questo video però non ci andremo Abbiamo fatto pure gli altri E questa spada è in pietra si Un po' le texture tarocche Questa è in ferro Io mi prendo la spada in ferro Che mamma mia è bellissima Ok E abbiamo il colorante per il letto Che ha procurato il nostro bravo Peppe Adesso Prendi il colorante Abbiamo pure gli scudi Ecco Che sono molto buoni Aspetta Comunque L'unica cosa Quello di fornace è bellissimo L'unica cosa che ci manca Per l'armatura San piedi Ok Il letto blu Cos'è? Credo si è Il Phantom Guardate che bello ragazzi Vediamo cosa sarà il mio Cosa sarà quello di Peppe Comunque l'armatura resta molto bella La metto pure io Ho rotto tutto Una torcia Rimettila Il Creep Eh mamma mia la madonna Vabbè c'era l'aspettarselo Beh Di verde cosa ci può essere Ecco Ecco Il zombie Basta rovinare Io non mi sono fatto i piedini Neanch'io Tu ce l'hai un po' di ferro Eh? Tu ce l'hai altro ferro Ah Come no? Ah si ferro Si Si per farci i piedi Eh si Non ce li siamo Non ce li siamo Siamo fatti più Ok Mettiamo qua L'armatura in barra Non la buttiamo I piedini Si Si rompe l'armatura Ecco i piedini E uno E due Giù Ho droppato del ferro Non te lo prendo Ah beh lo posso fare io? No Faccio io Se ti togli dalle scatole Magari Io vado a guardare Ah abbiamo messo Le sbarre di ferro Antonio Oh no Non è Abbiamo messo pure Le sbarre di ferro Ecco qua Tieni Giuseppe Dove sei? Qua sotto Mamma mia come sta bella Questa l'armatura Anche a me sta benissimo Madonna mia che sono tanto bellissima Ecco Ok siamo pronti E questo è in ferro? Io la metto qua Io la metto qua Questa Su un minecraft Non si butta niente Dobbiamo trovare Il token Della morte Molto utile Il tuo letto è bellissimo Ma il mio Pure bellissimo Magnifico Allora Dovremmo mettere Delle scale Per salire meglio Io l'interessore Che quando vado a dormire Il suo letto esploda Allora Forse è una mod Che lo scudo Non si vede bene Anzi è meglio Così Abbiamo la visuale E quando È così Perfetto E quando Siamo cifritati Si vede un pochino E adesso Qua Giù Vabbè faccio io Faccio io Ho sbagliato tantissimo Faccio qua Ok In questo video Dobbiamo migliorare La casa Io vado nel tetto A migliorare Il mio Attento Attento se ci muori male Spero Io tocco qua Anche se Ogni volta che sono in hardcore Mi scordo che se tocco il letto Non ha senso Perché se muoio Mi carri spavano Ah Levati Devo prendermi un lego Ecco qua E Ecco qua Ok sono di nuovo Ehm Non sembra di esserci nessuno Qua fuori È libero Se c'è qualche pecore Poi Sicuro Perché non voglio muovere C'è solo una capra E nella savvia I serpenti Esepa se muoio per colpa tua Dico tante brutte parole Ma proprio brutte Non c'è nessuna Parola qua fuori Ok va bene Sembra che non c'è nessuna Mi fido di te A volte Fra Buco Che? Ma Che cacca che hai fatto qua E Vetro Giuseppe ma qui hai messo due pezzi di legno brutti Eh sì ora li tolgo Buco E Vetro Perfetto Guarda Dentro Vai dentro Guarda cosa Aspetta Noti qualcosa Indifferente Qua ho fatto una cagata Ok C'è il vetro Eh sì Ho fatto qualche buco qui Per Migliorare Qua pure Qua Allora lagga abbastanza Perché Fra E ne ho messi due Uno qui E uno qui Che cacchio ho fatto Non ho craftato sulla crafting table Sono scemo Ok Va bene Canto insieme a me Antonio Lognomo Che cacchio è C'è un dinosaurio con Delle cose bianche Delle cose bianche Dove Dove E E Guarda Mi faremo Nel deserto Che dici Io non lo vedo Guarda lì Ah Boh Quello ci uccideranno un colpo Probabilmente Sì Sicuramente C'è un po' Ok Ti servivano per scendere Sì Non l'avevo capito Ok Mi dispiace Cosa vuoi che ti dico di più Io ho qua del vetro La scala Dove c'è la mia festa Tanto ora l'allarghiamo Facciamo ognuno la sua stanza Ok Tranquillo Non diventare un pazzerio Io vado fuori Ah Che mi fa il rabbiere La frecchetta È diventata rossa Quando è rossa Mi sa che c'è Qualche mobile vicino Qualche mobile Sì Io inizio a farmi La mia La mia stanza Ok Allora Giù Giuseppe Sei vivo? Sì Ah ma sei qui Ok Pensavo che eri fuori Allora Sì infatti Come hai detto tu Facciamo lo spazio Per ogni stanza Ok Tu te la puoi fare Come cavolo vuoi Ok Sì infatti Tu puoi mettere Quello che vuoi dentro Ah ok Quello che vuoi Però me la faccio Un po' più giù Che ho paura Che col tetto Poi la faccio fuori Secondo me Questa casa Piano piano Verrà bella Non so Però dobbiamo darci il tempo Giusto Giuseppe? Eh 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 In questo video Secondo me Cambieremo molte cose Perché? Perché Mi diventa A volte mi diventa rossa Giuseppe Non so per quale motivo Eh sì è quando c'è Un mobbo vicino Io faccio così? No In un punto preciso Ma dici che per quello Sarà utilissimo Se veramente per quello Eh sì E' vero Giuseppe? Io ho del legno che esce da qui Giù A me già mi si è rotto Il piccone legno Come? Eh è triste questa cosa Ah ma io il piccone legno Non lo sto usando Eh bravo Però a me mi si sta rompendo la pala Tu in cosa te lo sei fatta? Eh? Con la in pietra? Io Sì E poi quello in ferro Tu ce l'hai quello in ferro? No Come? C'ho Ma ti ho detto di fartelo Ma non ho preso neanche la spada in ferro Sì Ah vabbè qua Ce la vuoi nella cesta Ah ma il piccone ce l'hai Però io non lo voglio fare Ok Posso? Oh no eh Che chi hai fatto Giuseppe? In età Giuseppe? Eh ma non scavare più in alto Perché? Perché c'è la terra Evi per questo ci ho detto di Lo faccio un po' di soldi Ecco bravo Però mi servono delle scada Che significa? Mi servono delle scada Non puoi piccone Questo qua è bellissimo Ok E quella E quella Ok Perfetto No Ma la scempietra già ce l'avevo Che sono stupido Vabbè tanto qui ce n'è Pietra ce n'è in quantità industriale Siamo in una casa di pietra Però poi voglio togliere tutta sta terra Magari la terra Non la pietra Vabbè magari facciamo in un altro modo Però tu ce l'hai delle scale Le scale? Non 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 Allora Allora Non facciamo solo nella stanza Questa è tipo La stanza principale Qui E come Come se ti devi fare una casa tua Capito? E una casa tua Che però collega In questo posto Come un albergo Vero Però che La stanza la puoi fare come vuoi Ti puoi fare la tua cucina Ti puoi fare Quello che vuoi Capito? Ovviamente devi avere un po' pure di rispetto A non entrare nella mia stanza Facendo un bucone Eh Oh mio dio Questo non va bene Che c'ha? Eh c'è una grotta Come? Forse però Posso Usarla come parte La mia Oddio Cos'hai fatto? Tranquillo Forse stavo laggando E mi è sembrato come se ti sei teletrasportato Quindi all'improvviso Ho avuto tanta paura Veramente Le cose Nella mia stanza Illumina tanto Che mob qua dentro Non ce ne devo messo Eh Che se no Moriamo subitissimo Immediatamente Comunque Giuseppe non vedeva l'ora di fare una serie hardcore Del genere No proprio dell'arcore Secondo me Lui voleva fare delle serie con Cosa del genere Tipo di uno sauri Così Però poi io Però poi si caca addosso Sì Boh Giù però Terminiamo il video qua Perché? Non so Allora facciamo qualcosa off camera A quanti minuti siamo? Facciamo qualcosa off camera Siamo a 11 minuti Giù Io ho finito Ah hai proprio finito Sì Eh è bello quel quadro Quale? Che stai? Quale quadro? Un drago è? Dov'è? Ah è qua Guarda la mia stanza Uh bello E quanti quadri? Ti piace? Ma Ro Quanti? Che ti serve? Boh Tipo le cose più importanti Che troviamo Le metto Eh Giuseppe 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 Comunque questo quadro Mi piace tantissimo Quale? Questo? Sì Vuoi vedere un quadro Che a casa mia? Eh un attimo Metto qua il letto La metto proprio qua Perfetto Ok fammi vedere Questo è l'unico Quadro che io Che cacchio c'è Un villaggio Che cacchio è? Villaggio Ah beh E quel che cos'è? La mia camera del letto Perché? Eh perché Ah questo Sì perché Il mio maletto domestico Non sapevo che pesce avevano sei cuori So salito su questo posto Che cacchio è? Non mi aspettavo che avevano due cuori Un tempio? No Un tavolo Allora Allora Dire la verità Mi sono impegnato un po' Più io Beh Sì Io Quante volte sono uscito Ormai me lo so scordato Vabbè Immagina io per trovare un pesce Ho dovuto cercare un pesce Eh ma nel laghetto qua non c'era vero? Eh no Eh vabbè Infatti è per questo Mamma mia Sono stanco È notte Eh lo so che è notte Andiamo a dormire Per la prima notte Nella nostra Nuova Casa Ah vabbè Nella nuova casa Vabbè La stanza diciamo Che perché Casa Sono entrato dentro il dipinto Come? Super Mario 64 Super Mario 64 Allora comunque Vieni un attimo qua Magari poi ci facciamo proprio una stanza Però per ora La mia stanza è Questa E tipo delle cose Le cose più importanti Magari che ci droppano Se troviamo qualcosa Un deserto In posti più importanti Ma pensi che tipo Droppano i serpenti O scordi Ma può essere Qualcosa di raro Ma lo mettiamo qua Poi però ci facciamo E gli ametiste Eh vabbè Che c'entra gli ametiste Vabbè Sono di minecraft È normale Eh sì Vabbè Ma gli ametiste sono Allora Secondo me C'è il sicuro Qua Non sembra di essere Beh è una bella base Abbiamo Alla fine è venuta una bella base È un buco il vestimento Sì Infatti è molto bella Infatti La rolla sotto è sempre piena di scoppi Un'estertente Eh ma lì Sono me Appena avremo armature Spade migliori Le gentriamo La cosa Anzi meno male Che non escono Dalla sabbia Perchè non sono scesi Qua Sennò E' verrebbe stata la fine Secondo me Non possono stare Perchè Credo che preferiscono Stare là Possiamo terminare Comunque il video qua Sì Va bene Questa Colla in pietra E ancora Quello in legno Io ho questo in ferro Quello in ferro Quanto li leva? Ah Due cuori È un po' difficile Guardare Però Aspetta Me la levo Però No Dammi Attento Hai tutti i cuori curati? Sì Colla in ferro Dovrebbe fare Quello normale Sei vivo Ok Come con la normale Ok Va bene Buo ragazzi Adesso In camera Metterò Le cose Che ho Nell'inventario Dentro la cesta E ragazzi Per oggi è tutto Ciao Ciao